Abbiamo tempo sui porti tecnici. Un applauso. Questo progetto ha subito dei miglioramenti e degli aggiornamenti. Se vuoi dire due parole sulla finalità del tutto. Si indirizza ragazzi di fascia scolare, però la cosa importante di questo sito è dare delle risorse certificate su internet perché non basta andare su Google, su qualsiasi motore di ricerca e scaricarsi la prima cosa che capita. Bisogna andare su siti, luoghi, filanti dove una persona, un insegnante, qualcuno, colui o colei che dovrebbe formare queste persone, anche bambini, a livello di asilo, a livello di, che so, anche in teneretà poter dare dei materiali, ad esempio, da disegnare, da colorare, che li facciano avvicinare a un certo mondo. Quindi, la bussa della rete è un progetto valido. Ed è così valido che l'ho dovuto praticamente spostare su diversi server. Ho messo in cura dei CDN, ho messo in cura dei CDN, ho messo in carica i dati in modo asincrono. Cioè c'è praticamente tutta una cosa dietro per far fluire questi contenuti in modo totalmente gratuiti. Ed è una bella soddisfazione poter contare su un certo numero di visitatori. Bene, complimenti a voi. Grazie, ci vediamo. Dunque, categoria di business and commerce, questa appunto è la categoria tipica del...